Di sicuro c'è che sarà un processo breve, quello a Guglielmo Beccuti, il ragazzo accusato di aver ucciso il padre e di averlo bruciato il 6 settembre del 2020 in una località vicino a Casale Monferrato. L'esito del processo risulta abbastanza scontato perché il perito, nominato durante la fase dell'indagine, aveva giudicato il ragazzo incapace di intendere e di volere. Ora la Corte ha richiesto un aggiornamento per capire se esiste ancora una pericolosità del soggetto. Il perito giurerà nell'udienza prevista a Novara il 13 giugno prossimo. Le parti hanno deciso di produrre una notevole memoria difensiva per evitare il lungo iter delle testimonianze e la sentenza potrebbe arrivare già prima della pausa estiva. Guglielmo Beccuti, allora 23 anni, aveva ucciso il padre Paolo di 61 anni la domenica pomeriggio, poi aveva acceso il falò in giardino a casa. A luna di notte la moglie della vittima, con cui il 61enne viveva nonostante la separazione, aveva visto il figlio allontanarsi in stato confusionale e aveva dato l'allarme. Il giovane aveva provato a fuggire sull'auto del padre ma era stato rintracciato dal GPS del cellulare in una località non lontano da casa. Ora Guglielmo Beccuti, che nel frattempo in carcere si è laureato in informatica, ha scelto di non partecipare al processo ma di restare nella struttura sanitaria idonea a ospitare gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Neppure la famiglia andrà al processo. La moglie, il fratello ed il figlio della vittima hanno fatto sapere ai giudici che sono da tempo chiusi nel loro dolore per una vicenda a cui è difficile dare una spiegazione.